Nessuno può oggi permettersi, non dico di sostenere apertamente, ma anche solo di insinuare veratamente l'idea che il processo di riforma del meccanismo europeo di stabilità sia stato condotto segretamente o, peggio, firmato nottetempo. E mi sono sorpreso, se posso dirlo, non della condotta del senatore Salvini, la cui disinvoltura a restituire la verità, la cui resistenza a studiare i dossier mi sono ben note. Quanto del comportamento della deputata Meloni, mi sono sorpreso del suo comportamento. Avrei trovato divertente ascoltarla mentre dice che si meraviglia di me. Non mi stupisce che lei possa essere meravigliato da qualcuno che difende l'interesse nazionale e che rimane coerente. Non mi stupisce. Gli italiani da un Presidente del Consiglio si aspettano risposte, soluzioni, non insulti. Mi spiace per lei però perché vive male, perché chi vive di rabbia, rancore, minacce, insulti, vive male. Passa una grama vita. Mi sembra quasi superfluo confermare a quest'Aula un fatto di tutta evidenza. Ossia che né da parte mia né da parte di alcun membro del mio governo si è proceduto alla firma di un trattato ancora incompleto. Perché quando esce l'Ansa oggi pomeriggio in cui l'Eurogruppo dice il Messe è approvato, cosa ha fatto a capo A, prima si vota meglio è. Quando il Ministro Gualtieri in Commissione dice non è emendabile, è così. O mangi sta minestra o salti sta finestra. A quei banchi c'è qualcuno che mente. Decidete voi se sta mentendo il Presidente Conte o se sta mentendo il Ministro Gualtieri. Salutiamo quindi la decisione presa nel vertice di ieri sera per cui nessuna luce verde sarà data all'Eurogruppo del 4 dicembre fino a che il Parlamento non si sarà espresso con le sue risoluzioni che precederanno l'Euro Summit del 12 dicembre. Qua se ne esce da questa situazione solo in modo. O lei porta qui un documento e la maggioranza parlamentare smentisce la risoluzione del 19 giugno. È possibile. Il Movimento 5 Stelle aveva un programma in cui si parlava di liquidare il MES. La Lega è l'unico partito che il primo fondo stati non l'ha votato quindi era chiara la nostra posizione. Se il Movimento 5 Stelle invece che liquidare il MES è disponibile a liquidare i conti correnti degli italiani venga qua e si prenda la responsabilità votando. L'Italia, dato l'alto debito pubblico, è il paese che ha il maggiore interesse nazionale all'esistenza del MES. Ma dove eravate? Scusa Salvini, ma scusa anche gli altri. Ma dove eravate? Aperta parentesi, si vergogni. Presidente, ma non può mica accettare che dedica Sì del Buonio al Presidente del Consiglio. Sì del Buonio al Presidente del Consiglio. L'ha detto fra parentesi. Sì del Buonio al Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio di mare. Sì del Buonio al Presidente del Consiglio.